Oh bene stai zitto Nick abbiamo iniziato a registrare Roblox però voi non mi vedete dove sono finito Nick aspetta Allora facciamo così praticamente dobbiamo sentire la musica quindi cerchiamo di parlare poco E tu però stai svegli Nick mi raccomando parla Ma c'è un problema aspetta Che problema c'è? Sono morto Come sei morto mannaggia a te ok devo continuare io tu aspettami Eh sì che ti spetto Parla parla tu quando io non ci sono perché ovviamente è molto difficile cercare di stare super attenti Guardate raga che è super difficile questa cosa cioè voi state guardando E però l'attenzione dovete sapere che è molto selettiva dell'essere umano Quindi non so se vi interessava questa cosa però purtroppo ecco davanti a me uno è morto Ok perfetto Ok Ok Ah non lo sto credendo No non mi è ammazzato Attento dietro che gli altri ti possono spingere giù Sì aspetta Allora praticamente Finalmente siamo riusciti a portare anche noi Squid Game Abbiamo avuto un po' di Problemi Panku Panku Oh si abbiamo vinto Quando non si che dietro la linea puoi anche muoverti Eh lo so lo so lo so Ma abbiamo vinto per fortuna È perfetto raga guardate che è super difficile non parlare Passiamo al prossimo Bene siamo al prossimo quello là dove dobbiamo fare Ma voi avete visto Squid Game Io l'ho amato troppo sto Squid Game del couch Taglia il biscotto seguendo le linee Nessun problema Signori noi lo faremo Io probabilmente se andassi in uno Squid Game vero Morirei assolutamente Non mi piacerebbe Ma voi lo fareste Squid Game vera vero Cioè io non lo farei mai Ok No raga è difficile Capitata la figura più facile Quella fianco tali è capitato non bello Che quella più difficile Eh lo so Però guarda che Tecnicamente è molto semplice perché È un cerchio Devi muovere il mouse Ed è facilissimo Ho vinto Bene Perfetto Poi basta cliccare solo delle volte Non è che bisogna seguire il cerchietto È molto bello come giochetto Molto bello Adesso Guardate quanto è bella questa mappa Ma scusa questa è in italiano Nika hai detto? Eh si si è in italiano Ok Quindi se volete giocare Com'è che si chiama la mappa? Eh si chiama semplicemente Squid Game La modalità 44.000 player che ci giocano Ok quindi Tantissimi Perfetto Se volete giocare è molto bella A me A noi piace molto Poi soprattutto Squid Game Appunto la modalità di Squid Game è bellissima Andiamo alla prossima Sciogli lingua Squid Game Eh? Sì uno sciogli lingua Ma veramente Ma veramente Ah ma scusami un attimo Ma penso che questa mappa L'abbia fatta qualcun altro Ora che ci penso Nika No non penso Ce l'abbia fatta qualcun altro Sei sicuro? Boh a me Eh si A me sembra conosciuta Ma magari non l'ha fatta nessuno Effettivamente È consigliato creare alleanza Buona No Eh avete capito raga Questa qua è la parte in cui Nello Squid Game C'è una gang che tipo Vuole ammazzare le persone Con il coltellino E qua invece È un tutti contro tutti No però ok Hai fatto uno spoiler Vero Io ti faccio fuori Lo sai Mai spoiler C'è ok che tecnicamente Era per spiegarti Non l'ho fatto apposta Eh ci spiace se Scusateci Oddio è tutto notte raga Non si vede un cappero fritto Cosa Baseball bat No raga non si vede Dove No no però non si vede un cavolo C'è Nick Ok ora si vede qualcosa No no si vede un po' Si vede C'è una luce ogni tanto Ok 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 Perfetto perfetto Allora aspettate un attimo Perché se no qua ci moriamo Bisogna stare super attenti Io vedo uno di là L'importante è non ammazzarci a vicenda Raga Guardate che su Squid Game vero E sono successe queste cose Però tutti si ammazzavano a vicenda C'è nel senso Erano fuori di testa Io mi chiedo ma come caspita Ma anch'io ho fatto uno spoiler Allora ho capito Gravissimo Ho capito che questo video Sarà pieno di spoiler Eh Aspetta aspetta Eh ma tutta la modalità E' uno spoiler in realtà Di quello che succede Eh appunto Quindi non guardatela Se non volete spoiler Comunque ti conviene Metterti nelle scale Perché le scale Se ne lo prendi Quali scale? E' le scale Che ci sono dietro Le vedi? No vai là dietro Ah ok Vedi qua sotto Che ci sono delle scale Ok 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 ho capito Bravo bravo Hai ragione Se Fermati qua Fermati qua Se non c'è Ah Se uno sotto Tra Non ti può prendere Non direi così tanto Sai Perché praticamente Sto qua ho visto Tanto tu puoi morire Solamente con tipo Una roba come tre Quattro mazzate Perché appunto La vita su robux Non è che Con una mazzata muori Esatto Cerca di parlare bene Però per carità Perché ti vedo Molto impanicato Nick Che mi sto intrippando Nel parlare Chi è più forte Sopravviva Dice questo Grazie al cappero Io sono furbo Non forte Cerco di non morire No 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 Ragazzi C'è questo qua vicino Che secondo me Mi vuole Infilare il bassone Sotto Vabbè Non posso dire Ulteriori cose Sennò poi dopo Potrei sembrare Un po' maleducato Che me ne frega Cioè nel senso Stai fermo Non andare al centro Perché ti possono ancora Picchiare perché hanno la mazza Davvero? Ah Questi mazzoni Che schifosi Cioè guardate che mazzoni Ma ci sono rimasti pochissimi Raga Ma veramente? Cioè io avrei Buone possibilità Di sopravvivere quindi Al vero Squid Game Non è vero mai nella vita Cioè Non è un indicatore Che l'avrebbe tra noi Oddio Non so cosa hai detto Nick Però facciamo finta di niente In this game Perché adesso parla in inglese Che aspetta succede? Vabbè praticamente dice che L'acqua è tossica E ti farà male ovviamente Se proverai Non è necessitata questa Quando ci ho giocato io Eh Ho visto che però Che volta ci è capitata? È molto È la prima volta Vabbè Cerchiamo Di Di andare da questa parte Forza Però fateci andare Perfetto Allora l'acqua Ricordiamoci è tossica Io sto cercando di capire Però un attimo Come funziona questo gioco Perché non mi ricordo Molto bene Cioè come E come funziona? Non lo so Non mi ricordo neanch'io Secondo me non esisteva Nel vero Squid Game Scusami No sì sì che esiste Ma mi sembra che devi Semplicemente salire le scale E cercare di non toccare l'acqua L'acqua tossica? Ma A me non pare di aver visto Una roba del genere Boh vabbè Guardi giù l'acqua sta salendo Ok perfetto Non voglio guardare giù Allora Facciamo che non guardiamo giù Ha fatto Ah questo è un parkour E io non son bravo nei parkour raga Cioè potrei cadere e morire Effettivamente comunque Ci potrebbero essere altre mappe Se moriamo Quindi cosa devo fare? Cosa dobbiamo fare? Ah da questa parte Non lo so No raga cosa dobbiamo fare? Non ho capito Ci dice No in sala basta Siamo sicuri? No da questa parte Devo andare ancora più sopra Ok perfetto Ok perfetto Vedi era molto strano Perché poi Non sono nemmeno chiari Sti rimbecilliti Rincitrulliti Come si permettono? Schifosi No scherzo Non denunciate Sto scherzando chiaramente Lo sapevo io Quella là mi voleva È caduta Cioè è rimasto solo voi due Ma seriamente Ma siamo fortissimi Porca puzzarda Adesso Adesso credo di Fai attenzione qua Queste stelle Mezze stelle Sì mezze stelle Veramente No come si fa? Ma stiamo scherzaiando Cioè veramente Se l'hai fatta Bravo Raga Cioè io sto morendo dentro Non so se si sta capendo Sta cosa però Perfetto C'è il signore qua Che è rimasto Seriamente da solo Il che la dice lunga Su quanto effettivamente No siamo rimasti Ah no sono io Che si dintra Abbiamo vinto? Credo di sì Abbiamo vinto Ti prego dimmi che abbiamo vinto Perché qua mi sembra Eh mancano 59 secondi Ho capito Dobbiamo aspettare altri 59 secondi Ma che pappole Forse manca un altro Non lo so Eh potrebbe essere Chissà Cioè magari è là sotto Sì ce n'è uno sotto L'ho visto L'ho visto Sì Che cattivo No scherzo Non è cattivo Però io non ho acceso Scusatemi Non volevo non accenderlo Adesso l'ho acceso Mi vedete meglio ora Cosa? Eh non mi vedevano bene Io sono stupido Ah La fune No sei da solo Ma come sono Ma scusano Ma stiamo scherzando Ma Ah perché Divinificare il più possibile Siamo dispari Buona fortuna Eh scusate Mamma mia Allora Buona fortuna Che venga il migliore Sì certo Grazie Allora Vai Perché muori qua Perché loro sono in due Ticca Clicca Super clicchevole Dai No sei morto Eh perché loro fanno i clic veloci Tipo Eh no perché loro sono anche in due No scusami Non Allora sto cercando di sopravvivere Però la mia mano sta andando a quel paese Praticamente Eh è normale È normale Lo devi fare per 25 secondi Ho capito Loro sono a 330 Io sono a 150 Mi sembra che sia un po' complessa La situazione Ok ma tanto non stai ancora andando giù Se riesci a resistere se ti interessa E no muori Ok perfetto Aspetta Raga Aiuto No 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 Non fermarti Non ti devi far maldito Non ci devi pensare al dito No infatti Dai forza Forza amici Ce la possiamo fare Vai Bravo ce l'hai fatta No raga È stata una roba Ancora in piedi dopo quello Impressionante No vabbè raga Cioè Per te si è impressionante Veramente Mi sono stancato vi giuro Devo mettere l'autoclicker Perché così Fan cucolo No non si mette Non si mette Voi non mettetelo Però Io No con il vetro Fai andare avanti prima gli altri Ok esatto Il vetro Allora prima di tutto Si deve andare da questa parte Giusto Poi da questa parte Per carità divina Saltate Mi raccomando Andate forza Ok Che cosa Ah Hai capito Ah si è un trick che si può fare Ma te non lo fare Se no poi cadi Esatto Meglio non farlo Lui è bravo Sì ma No ma sono coglio Cioè raga Sono stupido Ok perfetto Direi che comunque Siamo a dieci minuti Quindi va bene così Mi raccomando Scrivetemi se volete vedere Altri video di Squid Game Dovamo portarlo anche noi Perché ovviamente Ci vediamo molto E Ovviamente arriveranno Molti altri video lunghi Quindi Vi ringrazio tantissimo E ci vediamo al prossimo video di Roblox È successo un casino qua Ciao 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 Grazie.